Manuela, 21. Paola, 25. Io mi chiamo Imma. Secondo anno di giurisprudenza. Eh, abbastanza perché sono la mia seconda laurea in realtà. E vorrei fare il magistrato. Dopo la scuola superiore della pubblica amministrazione, anche se è difficilissimo entrare, ognuno. Penso forense. Lilla. Preferisco questo indirizzo proprio per gli sbocchi che poi dà. Avvocatura, magistratura, eccetera. Magistrati. Perché credo nel senso della legge. Per diventare un magistrato. Ai miei futuri colleghi consiglio un'università come questa, assolutamente. Poi ci sono tanti corsi, non c'è solo giurisprudenza, quindi è un'università veramente molto organizzata. Abbiamo i migliori progetti. Bene, sembra un po' di ritornare al liceo, una bella atmosfera. Ci sono molti servizi. Dire la disponibilità del docente. In futuro noi giovani potremmo cambiare le cose. Credo nella giustizia, sì. Sempre alla ricerca di una verità. Come la cosa? Come la cosa? Come la cosa? Come la cosa? Grazie a tutti